del bianco e nero è stata per due ragioni. La prima è molto semplice, cioè noi abbiamo pensato che il pubblico doveva aver chiaro il passaggio del tempo. Il bianco e nero rappresentavano i sei mesi passati e quindi abbiamo usato un mezzo narrativo che fa parte del lavoro cinematografico normale. Ma quello più profondo, più vero, è che per noi oggi il bianco e nero è irrealistico, mentre il bianco e il colore è naturalistico. Il bianco e nero era il cinema, ma da tanti anni non lo è più e quindi riproporlo è come riproporlo qualcosa di anormale, qualcosa di vero e non vero. Pensavamo che andare dentro il carcere, dentro le sbarre con una ripresa a colori, ci sembrava che tutto diventasse televisione. e il bianco e nero poi ha aiutato anche la scelta che abbiamo fatto di questi ambienti dove si svolge la tragedia. Cioè i corridoi del carcere, cioè i giocano pallacolo, i cubicoli, cioè i corridoi per presa d'aria, i carcerati dove viene ucciso Cesare. Sì, sentivamo che il bianco e nero e questi ambienti ci davano la possibilità di essere veri al tempo stesso di fare, non so, un cinema dell'assurdo. Abbiamo l'impressione che, quando si gira un film, si crea una complicità con gli attori, con gli elettricisti, con i direttori della fotografia, no? Si crea un clima di amicizia. E questi attori, perché noi non pensavano al certo alla ricompensa, la ricompensa era già questa amicizia che sentivano. E un giorno, uno dei soldi ambienti del carcere si è avvicinato a me e a Vittorio e ha detto, guardate, io capisco che voi sentite amicizia e complicità con questi carcerati. E anche noi, che siamo in familiarità con loro, sentiamo della pietà forte per questi uomini e ragazzi. Ma sappiamo fermarci al punto giusto, perché la pietà deve esserci prima di tutto per gli orfani e le vedove che questi carcerati hanno avuto. creato, uccidendo i padri e i malditi. E quindi noi è vero, abbiamo capito che era vero tutto questo, ma era vero anche che questi uomini recitando con noi, recitando Shakespeare, non erano più quelli che avevano ucciso. Ecco, così ci parevano. E quando è riferito a questo film, a questa breve elaborazione, ma molto, molto intensa, hai fatto cosa? E ci siamo salutati, noi ci siamo avviati nel corridoio che portava la luce dall'uscita. e i nostri carcerati attori invece salivano verso le loro celle. E allora l'attore, che è un po' il capo comico del carcere, che interpreta Cassio. salendo alle scale si è fermato, ha alzato una mano e ha detto, Paolo Vittorio, non Paolo Vittorio, Paolo Vittorio ci ha fermato così. Da domani niente sarà più come prima. È quello stesso attore che nell'ultima scena del film dice, tra quanto conosciuto l'arte, questa cella è diventata davvero una prigione. che è una battuta che non abbiamo inventato noi a tavolino da sceneggiatori. Ma che lunghi ci aveva detto ed è stato uno dei motivi anche per cui abbiamo fatto un pubblico. Cioè la grandezza della scoperta dell'arte è il dolore di scoprire questa grandezza. la grandezza della scoperta dell'arte e la grandezza della scoperta dell'arte. perché è vero che scoprire che esiste tutto un mondo dell'arte che prima non conoscevi e che è perduto fa soffrire un uomo come quello, ma al tempo stesso pensiamo che per lui e per gli altri sia anche una conquista questa scoperta dell'arte. perché scoprire che c'è un'altra scoperta dell'arte che ti amo e che ti perdono, che ti fa soffrire. Ma al stesso tempo c'è un figlio che in alcun momento non è capito di diventare. e quindi dirà, dirà loro una autocoscienza e una buona scoperta che prima non avevano. comunque grazie, grazie, grazie. 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 Grazie.